Allora, seconda parte di Che calcio vuoi? Andiamo un po' a vedere l'ultima giornata di campionato quello che è successo e la classifica finale. Cittadella Como 0-0, Cosenza-Cagliari 0-1 quindi Cagliari è andato a vincere con la Padula in un campo difficile perché Cosenza aveva bisogno di fare punti e comunque anche perdendo va al play-out. Genoa-Bari 4-3, Modena batte sul Tirol 2-1 Palermo-Brescia 2-2, questo è il risultato che condannerà poi alla fine il Perugia alla Serie C Palermo vinceva 2-0, c'è stato un recupero micidiale del Brescia Parma batte Venezia 2-1 Il Palermo vincendo è arrivato a quarta, questo è importante Il Venezia è ottavo, tra l'altro, curioso, il Venezia arriva ottavo con 49 punti mi pare che l'anno scorso quanti punti fece? 54 la ternaia non rientro, quindi mi pare che il playoff ha 57 Esatto, una cosa del genere Poi, scusami, diciamo anche che il Venezia era ultimo in classifica Era ultimo in classifica, sì, quasi sì Poi ha fatto una grande rimonda con Vanoli Tu pensa che il Venezia, tu pensa che sciocchi, hanno fatto il mercato di gennaio Esatto, vendendo anche tanti giocatori Però c'è anche, giustamente, chi fa il mercato di gennaio, in genere, questa è l'eccezione Venezia è il classico esempio che fa, per esempio, il mercato con gli algoritmi Con le statistiche, con l'uso massivo di Wisecout piuttosto che di altre applicazioni Poi però, ultimo in classifica, svolta quando cambia allenatore Quindi anche lì l'imponderabilità del calcio Ma è cambiato anche un sacco di giocatori Una società che punta su uno stile di gestione particolare Si ritrova dalle stelle alle stalle e poi è tornato un'altra volta su E adesso ai playoff il Venezia sarà giocare con tutti Perugia a Benevento 3-2 Una vittoria rogambolesca del Perugia con un gol finale Sinceramente che lascia un errore marchiano della difesa Un errore marchiano a dir poco La Spalla che vince a Pisa 2-1 Pisa in caduta libera aveva la possibilità Infatti è l'unica vittoria che ha fatto la Ternana in ultime sette partite Esatto Forse il Pisa stava come noi Però te lo dicevo Gigi La puntata dopo con il Pisa Dissi che il Pisa insomma era una Ternana in condizioni disastrose Regina batte Ascoli 1-0 E anche qui contro Canto Una squadra che ha tantissimi problemi Che prende sette punti di penalizzazione Però due ma si è stato stati tolti Cinque punti Però rimane lì Gioca fino alla fine E quello che vuol dire Ma si è visto in quella partita contro di noi Quando hanno giocato due squadre con una differenza di carattere Notevolissima Abbiamo fatto un gollo con Pettinari che non ha esultato Poi si è mangiato un gollo Poi abbiamo reso due golle con la difesa ferma Negli ultimi venti minuti dovevamo cercare di rimontare Non abbiamo fatto nulla Questa è la differenza tra la Ternana con una società solida Perché su questo non gioca tu E una Regina con una società un pochino in difficoltà Quindi il fattore umano contro E quindi i giocatori sono stati decisivi Quindi mi stai dicendo che il fattore umano È netto La differenza è stata abissale Ancora il calcio giocano le persone Eh certo Dopo però magari ti racconterò un aneddoto Vai finiamola subito Allora Ternana quindi Frosinone 2-3 Classifica finale Frosinone vincitrice del torneo cadetto con 80 punti Genoa promosso con 73 Poi vanno a fare i play out Bari con 65 Parma e Cagliari 60 Sud Tirol 58 Regina 50 Venezia 49 Poi fascia di mezzo con Palermo Sempre 49 Modena Pisa 47 Modena 48 Ascoli e Como 47 La Ternana insieme a Cittadella chiude a 43 Play out si giocherà tra Brescia e Cosenza Quindi tra queste due squadre uscirà la quarta retrocessa E poi retrocedono in serie C Perugia con 39 punti Spalle con 38 E Benevento 35 Allora ci abbiamo 24 minuti circa per fare la seconda parte di puntata Però dicevo No in effetti tornando a quello che diceva prima Cioè in effetti le squadre che ci seguono in classifica Brescia, Spalle e Benevento Quindi alla Danana deluso forse c'è qualcuno alla Danana deluso ancora di più Però sono squadre che erano partite male Sono squadre che hanno sbagliato la stagione Siamo d'accordo Però quando tu E qui mi riallaccio a quello che dicevamo nella prima parte Guarda Spalle e Benevento Spalle e Benevento vengono da una serie A recente Significa che comunque l'annata può essere positiva o negativa Può essere positiva vai in serie A Può essere negativa retrocedi Ma quello che conta nel calcio è che fa la differenza fra una società strutturata Che non significa ricca Sono due concetti diversi Spesso vanno di pari passo ma sono concetti diversi E la continuità Però la Spalla cambia società Benevento no per esempio Benevento no E quindi noi se oggi vediamo il sassuolo in serie A stabilmente Ma il tuo concetto è chiaro Guarda le domande Quanto manca la Danana deluso in una società strutturata? Manca Quanto? In termini di soldi o anni? No 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 In termini di struttura Cioè oggi siamo a zero Ah ecco Quello che manca è il 100% E un tempo ragionevole sono 5 anni Un tempo ragionevole sono 5 anni No? Se tu vedi quello che ha fatto l'aiuto Secondo me se si prende un direttore sportivo di una certa esperienza Accorci i tempi Già è un bel passavanti Accorci i tempi sul campo Ma non accorci i tempi che ci vogliono Poi sulle strutture è chiaro che ci vuole un po' Però ma io infatti È giusto che Giovanni faccia questo discorso Perché mi sollecita anche molto no? È chiaro come dice lui L'impostazione La capacità di strutturare una società Ma è un discorso molto aziendale E allora il calcio è vero Che deve mutuare tanti principi Dalle gestioni Poi contano anche i giocatori Poi però ecco Ha una sua come dire Aleatorietà È una sua Tante volte succedono anche i miracoli Io su questo Chiedo scusa Non voglio scaldarmi Qualsiasi azienda Di qualsiasi industria Vive nella aleatorietà Immagina Io adesso ho a che fare Per motivi professionali Con un big player dell'ortofrutta Tu immagina il cambiamento climatico Che su chi possiede migliaia Decine di migliaia di ettari Dall'altro capo del mondo Dove produce banane Il cambiamento climatico Da un giorno all'altro Gli cancella metà della produzione È molto aleatorio Direi Non è che io posso spostare I miei 10.000 ettari Dal Costa Rica Piuttosto che dal Messico In un posto più favorevole Ce l'ho lì E devo riadattare l'azienda A quello che succede Lasciamo stare il covid Lasciamo stare Ma anche un mercato normale Tu oggi L'industria tedesca dell'auto Ci ha messo 20 anni Per arrivare dove è arrivata È stata cancellata praticamente Non nei risultati Ma insomma Un reset L'hanno dovuto fare anche loro Da un giorno all'altro Perché qualcuno ha detto Che il diesel Deve essere eliminato Ce l'hanno messo 20 anni Vabbè questo concetto è chiaro Scusa Giovanni Però quello che dice Gianni È un'altra cosa Dice che nel calcio Sì Ma questo succede anche in altri Però quello che lui dice E è vero È che nel calcio Non è che accade una volta su 100 Ma spesso accade Che pur non essendoci Una società strutturata Alcune squadre Ad esempio la regina di quest'anno Che poi ci ha avuto la penalizzazione Sennò vedi dove sarebbe Cioè succedono È vero che il Sassuolo Per esempio è l'esempio Che stai dicendo tu O il Chievo Di qualche anno fa Però ci sono anche squadre Che in mezzo a mille difficoltà Riescono a cogliere risultati Perché poi lì si crea È chiaro che se c'è la struttura societaria È meglio Meglio Certo Però secondo me nel calcio Può anche capitare Che senza struttura Si crea Che ne so Un collante maggio Per il quale una squadra Che ne so Con una società Un po' così Un po' traballante Riesce a ottenere Grandi risultati Ci vedremo qui Poi magari alla lunga Ci vedremo qui fra qualche anno Io ti faccio una previsione Periamo Non sulla Ternana Lasciamo stare la Ternana Perché la Ternana È in un contesto Che è il calcio italiano Tra l'altro di Serie B Dove le squadre strutturate Le conti sulle di erano la mano Quindi nel caos È più facile emergere È anche più facile cadere Cioè l'imprevedibilità No? Io vorrei solo rivederci qui O magari quando io Non verrò Perché sono diciamo Un ospite saltuo Un occasionale No? Faccio la previsione Guardiamo il Newcastle Ma in Inghilterra Tutte sono le strutture Guardiamo il Newcastle Va bene? Ci vediamo qui fra 5 anni E guardiamo il Newcastle Ma Giovanni Ci sono già delle società Che Fanno quello che dici tu No Ci sono già Siamo noi che non Cioè è rimasta l'Italia Che non lo fa Che è una cosa diversa Ogni azione C'è la sua specificità No però guardiamo Allora Prima hai citato Real Madrid Il Tottenham è strutturatissimo C'è un impianto sportivo Forse il migliore d'Europa Il Tottenham Non ha mai vinto niente Perché poi conta anche l'allenatore No prima tu citavi Real Madrid Real Madrid Il Spagno soffruisce di una serie di situazioni Che in Italia non ci sono Ma anche il Barcellona soffruisce Le quattro squadre Quindi poi conta la struttura Ma conta anche quello che succede all'interno Di un singolo Stato Ma siamo d'accordo Io però ti dico Adesso Lasciamo stare un attimo il Real Madrid La mia concezione E questo è il motivo per cui Di fatto ringrazio Alessio Mi sono autoinvitato oggi Mentre le altre volte mi aveva invitato lui E perché io vorrei solo pregare Chi ci vede A Terni Ma anche in altre città Quando dovranno giudicare Il nuovo campionato Il nuovo anno A Perugia Non sappiamo quello che succederà con il Santo Padre Se lascerà la squadra Se sarà anche lui Diciamo nelle condizioni Continuare il prossimo anno Nella serie inferiore Però quello che E tante altre squadre A Terni Noi abbiamo un'incognita importante Perché il nostro Presidente Potrebbe diventare Sindaco E nel momento in cui diventa Sindaco Dovesse diventare Sindaco Possono cambiare tante cose Possono cambiare tante cose Quindi quello che noi dobbiamo Sicuramente guardare È un'ottica di breve termine Arriva il signor allenatore A Il signor direttore sportivo B I dieci giocatori che vogliamo Tutti bravissimi Siamo contenti L'anno prossimo facciamo i playoff O andiamo addirittura in serie A Primi in classifica Tu dici la cosa Questo è chiaro Non cambia niente Non cambia niente Va bene Noi diciamo No scusami Voglio studiare solo questo Allora La tecnologia Per esempio Applicata al calcio È una cosa che A noi Per la prima volta A Terni Penso ne abbia parlato Luca Lelli Mi ricordo Ternana Pisa In serie B Le famose tre sconfitte consecutive Inizio anno scorso Che noi perdemmo 4 a 1 E Luca Lelli disse Che il suo match analyst Dati alla mano Avremmo potuto vincere noi Ecco Allora Io non sono per quel tipo Di applicazione Nel senso Doveva vincere il Pisa Quella partita Non c'era niente Da dire Non so Che programmi usino Però io ti posso anche dire Che per motivi professionali Io ho conosciuto Chi a Milano Ai tempi di Mancini Con l'intelligenza artificiale Collaborava con l'Inter Per la formazione Di ogni domenica In campo Sulla base Dello stato di forma Delle caratteristiche Scusami Dei giocatori No Conoscendo Gigi Allora Io queste cose qui E' chiaro Che parliamo Non stiamo parlando Di una scienza esatta Come il calcio Così l'economia Così la medicina Non sono scienze Stiamo parlando Però del fatto Che se tu sei strutturato Che il Milan Il Milan Lab Il Milan Lab Per anni è stato importante Non parlo del calcio Parlo di La struttura fisica Del giocatore Atletica Il Milan La controlla come società Non la delega Al Bartali Di turno Perché quando io C'ho un giocatore Che ho pagato 60 milioni di euro E che c'ho un contratto Di 5 anni con me Lo sviluppo fisico Atletico Di questo giocatore È Secondo me Però Giovanni Non è compito Siamo tutti d'accordo Giovanni Però strutturare una società Come giustamente Ibolizzi tu Richiede investimenti feroci Perché il Milan Lab Che conosco bene Cioè non è Una casetta È stato fatto in anni Anni Esatto Però noi facciamo gli esempi E poi mi taccio Perché se no Facciamo esempi più Diciamo più vicini a noi Va bene? Su Tirol No Su Tirol Cerca di stringere Faccio subito Facciamo l'esempio dell'Atalanta L'Atalanta Io ricordo sempre L'ho già detto una volta Quando per Cassi Prese l'Atalanta Il valore dell'Atalanta Era pari Più o meno A quello dell'Atalanta Però il valore Giunto dell'Atalanta È il settore giovanile E una rete Storicamente forte Ma non c'era Sì sì Ma l'ho già dato lui E il centro sportivo Per Cassi giocava con l'Atalanta Un tifoso dell'Atalanta Di Bergen Capito questo? Allora Per Cassi può essere anche Il tifoso dell'Atalanta Ma anche Costantino Rozi Era tifoso dell'Ascola O anche Conetani Era tifoso del Pisa Però il signor Per Cassi È un signore imprenditore Che ha portato l'Atalanta Da 13 milioni di euro Di valore della società A 500 milioni di euro Di valore della società Che lui ha venduto E vendendo la quota Ha incassato lui Personalmente 300 milioni di euro Allora Noi questo che dobbiamo dire È vero che io sono tifoso Per Cassi è uno Non è che ce ne stanno tanti E su questo io Anche qui No? Noi dobbiamo capire sempre Ce ne stanno altri 30 Che magari fanno fallire Una società Saltano Lasciano la società a metà Però noi dobbiamo Io voglio dar solo questo messaggio Poi chiudo Voglio dar solo questo messaggio Poi chiudo Noi sforziamoci da Ternani A essere più ambiziosi Sforziamoci da Ternani A essere meno autolesionisti A pretendere di più Dalle istituzioni Ma anche dalle imprese Qualsiasi Che stanno sul nostro territorio E non siamo figli di un dio minore Io quello che vorrei dire Sforziamo da Ternani Non è una piazza Così come Perugia Per carità Così come lo sono Altre che vediamo qui Che oggi non navigano Diciamo nel loro Perugia forse Detto a bocca stretta Però forse Fino adesso Ha ottenuto qualcosa in più Ha ottenuto qualcosa in più Senza costruire nulla Ti ripeto Anche noi siamo andati in Serie A Molto prima Allora il calcio Era un'altra cosa Siamo d'accordo Però Quello che noi oggi sappiamo Per certo È che quando una squadra Si struttura Come un'azienda Vera È una squadra Che ha continuità Con l'anno migliore O l'anno peggiore Ma è una squadra Che ha continuità E quello che vorrei dire Quello che io chiederei Da tifoso Al nostro presidente Bandecchi Portaci giocatori migliori Portaci l'allenatore E il direttore sportivo migliore Ma regala A Terni Una cosa Che è l'unica fondamentale Potrebbe rispondere Che ha tentato Di creare due strutture E in qualche modo Che è una società Che è in grado Di stare in piedi Con le sue gambe Perché dopo Quello che diventa appetibile Non è la piazza Ma è la società Certo Va bene Pausa E poi ritorniamo Magari con un discorso Un po' più concentrato Per i prossimi mesi Dog e Cat felici e contenti Vi aspetta Con oltre 450 metri quadri Dedicati ai nostri amici animali Tantissime idee Per le cucce E la cuscineria Un'infinità di proposte Di cibo secco Umido e snack Per l'alimentazione Del gatto e del cane E per le diete veterinarie L'acquariologia Con il meglio Per il tuo acquario D'acqua dolce o salata Pesci Invertebrati Piante acquatiche E accessori Il reparto volatili E piccoli rotitori E tantissimi accessori Per l'igiene E la pulizia Il trasporto Collari Guinsagli E giochi Dog e Cat Ti aspetta Da Spazio Verde In strada Di Maratta Bassa 91 A Terni In strada Di Maratta Bassa Di Maratta Bassa Di鐘 Mostra Stia DSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti sopra luoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Allora ultima parte di trasmissione a bomba però sulle prossime settimane che saranno comunque importanti perché bisognerà rimettere come dicevo prima in piedi tutta la struttura organizzativa della Ternano. Lo staff, Gigi, Lucarelli mi pare che di fatto non sarà allenatore da Ternano. La posizione del direttore sportivo comincia ad essere traballante. Allora se Lucarelli non sappiamo se sarà esonerato, se si dimetterà, se ci sarà una risoluzione, lo sappiamo. Comunque vedremo. Per il direttore sportivo io mi auguro che sarà un altro senza avere nulla di personale contro Leone, questo sia chiaro. È chiaro che i giocatori secondo me non ne possono restare tantissimi. È vero che la rivoluzione non va mai bene nel calcio. Beh chi terebbe? È facile dirlo no? Per esempio Giannarilli, Diaghite, Corrado, forse anche Sorensen, Capuano se sta bene, insomma la difesa ci potrebbe anche… Ma domani ci potresti? Beh domani senz'altro, lo dimenticavo, bravo me l'hai detto. Secondo me al centrocampo ha rifatto tutto. Forse di tacchio, se fosse di tacchio, però che comincia ad avere una certa età, se fosse di tacchio del giorno di andata, davanti io darei falletti partipilo se decide di giocare come nel giorno di andata, perché quello del giorno di torno è deludente. Ah scusa, dimenticavo, c'è anche Favilli, Favilli che è un buon centravanti per la Serie B e il ragazzo Capanni che secondo me ogni volta è un buon rincalzo. Allora io invece in 30 secondi, cercando di essere molto più terra terra rispetto al bellissimo discorso fatto Giovanni, direi consiglio a questo, prendere un direttore generale o comunque un facente veci tipo Sabadini che sa fare sia direttore generale che direttore sportivo, per il momento, sembra in contraddizione il discorso di Giovanni, ma per il momento esternalizzare l'area tecnica, quindi dare a un direttore sportivo tipo Sabadini pieni poteri, scelta dell'allenatore sulla base delle sue esclusive indicazioni, fare una rosa miscelata con giovani under 23 dalla Serie C, prendere un allenatore anche dalla Serie C particolarmente motivato con tanta fame, mettere 4-5 giocatori nei ruoli chiave che sono portiere, ma già ce l'abbiamo, difensore centrale, regista e attaccante, 4-5 giocatori di grande livello o comunque di buon livello e poi tenere quei 2-3 giovani che già abbiamo in rosa tipo Diaghi De, piuttosto che Corrado, io ci metterei anche i capanni. Detto questo, fare in modo che il direttore generale o magari la figura separata dal direttore sportivo sia presente sempre, sia prima della partita che dopo la partita, comunicazione direi l'area comunicazione e gestione va secondo me bene così, potenziamento del settore giovanile andando a pescare anche all'estero, sia per i ragazzi che per la prima squadra, potenziamento dell'area scouting, questa è fondamentale. Noi all'estero praticamente non abbiamo mai preso nessuno, mentre invece ieri guardate i giocatori che c'avevano il Frosinone che venivano da altri campionati e sono convinto che facendo queste 4-5 cosette che non è niente di particolare, noi faremo un bel campionato. Fermo restando Giovanni che dimmi la tua. Fermo restando che ovviamente nel lungo termine una squadra, una qualsiasi azienda deve internalizzare i fattori critici di successo, quindi non può basarsi qualsiasi azienda, compreso il calcio, quindi compresa nell'industria del calcio una società professionistica non può basarsi su persone che sono comunque a contratto per un numero limitato di anni, perché il direttore sportivo, a meno che non sia Ferguson, questi casi eccezionali che hanno una continuità, dopo 2-3 anni, 4 anni, cambia e quindi si porta via il know-how, come succede ormai in tutte le società di calcio, almeno la maggior parte in Italia, vediamo anche, io faccio sempre esempi più conosciuti del nostro, vediamo che è successo la Juventus quando Marotta è andata via, nonostante che la Juventus, ripeto, sia la società di calcio più strutturata in Italia e l'unica di stampo europeo, tengo a sottolinearlo, andato via Marotta è cambiato il mondo, significa che quelle competenze non erano competenze della società o dell'azienda, ma erano competenze della persona e quindi quando la persona è andata via si è portata presso le competenze, oggi questo noi non lo vediamo in nessun altro settore, noi non immaginiamo che all'AST va via un dirigente, l'AST cano, però tante volte nel calcio il presidente c'è solo la funzione di mettere i soldi, poi dopo ci vogliono i dirigenti, perché non si può chiedere al presidente di capire di calcio e mettere i soldi, magari ci fosse, uno è per Cassi ma sono pochi, no ma un vero manager, un vero manager qualsiasi, il task principale è quello che le competenze, il know-how e i fattori critici successo diventino patrimonio della società, perché la società deve comunque continuare indipendentemente dal suo management, quindi anche se noi prendiamo il miglior direttore sportivo del mondo, questo signore se ne va, il Barcellona ha perso Guardiola, il Real Madrid ha perso, quanti allenatori ha cambiato? Negli ultimi 20 anni il Real Madrid, quanti allenatori ha cambiato? Però devo continuare a citare un esempio che secondo me non è cambiato. Ma è quello, l'esempio è quello, adesso ti ripeto, noi non possiamo… No, non hai capito perché… Adesso guardiamo, però vorrei, scusami, lo so che noi partiamo da filosofie diverse, però secondo me noi… No, no, parlavo del Real Madrid e del Barcellona, che secondo me fanno come gli pare, perché tutti gli anni incacciano 400-500 milioni di euro, capito? E allora, vuoi dire, sono capace anche io a fare la squadra. Ma no, allora, io su questo no, allora il Real Madrid e il Barcellona incassano ogni anno 800 milioni di euro. Ci hanno anche grandi debiti. E tu, da chi? Come da chi? Eh, facciamo stare. No, 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 allora, aspetta, no, no, aspetta, facciamo le cose, sennò magari qualcuno a Madrid o a Barcellona ci vede e poi ci scrive. Allora, che il Real Madrid e il Barcellona, in particolare, insieme alle altre due squadre spagnole che sono lo Sassuna e l'Atletic Bilbao, abbiano dei vantaggi fiscali in casa loro, che sono anche al vaglio della Commissione Europea. No, ma al di là di questo io... No, aspetta un attimo. Questo non ci piove. Un vantaggio fiscale significa che una parte dei miei ricavi, invece di darla allo Stato, ce l'ho per investimento, ok? Però io ti posso anche dire che il Real Madrid e il Barcellona incassano 800 milioni di euro e che il Real Madrid nella classifica... Inghassano, scusami, spiegami, perché io questo non lo so. Inghassano i commerciantais? No, con tutto, con tutto, diritti televisivi, stadio... Allora, facciamo un altro esempio. Però lo stadio penso sia più grande per dire di quello della Roma. Ma non importa quanto è grande, l'importante è quello che tu fai dentro lo stadio. Comunque Barcellona, come sai, è pieno di debiti, non può nemmeno fare mercato, c'è un casino... Allora, io so quello che so io che è sempre da fondo pubblica. Diciamo che il discorso è scivoloso, Giovanni. No, quello che so io che è sempre da fondo pubblica è che il Barcellona ha preso appena un miliardo di euro in prestito dalle banche, quindi tanto fallito non può essere. E se si è arrivato? Tanto fallito non può essere perché il pool di banche gli prestino un miliardo di euro. Se ne è becchierosi, lui gli sta dicendo come mai gli hanno dato un miliardo sull'unghia? Solo perché, ipotizza Gigi... Diciamo che non è il mio argomento, quindi preferisco non esistere. No, il Barcellona... Perché io amo parlare delle cose che conosco. Però scusate. Magari dico una sciocchezza, non mi va di dire. Allora, quello che io ti voglio dire, questo sono dati pubblici chiunque può andare a controllare. Il signor Florentino Perez, in quanto presidente del Real Madrid, ha chiesto... Ascolta Giovanni, facciamo una cosa, parliamo della Ternana. Però no, però ti voglio dire perché parliamo della Ternana. Allora, di cui il 25% dati a una società specializzata americana per portare gli eventi nel nuovo Bernabeu. Noi oggi, io non so come è andato a finire, si diceva che gli eventi del Palasterni li doveva gestire Bandecchi, giusto? Sì. Però questo ancora è da decidere, non lo so. Parliamo, tanto ci sarai richiamato. Di questo ne parliamo perché puoi aver ragione benissimo o no. Però ne parliamo un'altra volta, che il calcio vuoi non finisce stasera. Certo. Adesso parliamo del fatto della Ternana, che cosa potrà accadere. Da qui alla prossima settimana, poco, perché c'è appunto il ballottaggio. E vediamo che cosa è meglio fare. Poi dopo ne riparliamo un'altra volta. L'argomento è giusto, però ne riparliamo un'altra volta. Non lo so poi quanto tempo abbiamo ancora, perché siamo quasi in chiusura. In questo ve lo fido di quello che ti dico io. Sì, sì, sono d'accordo con te. Allora, facciamo così. Facciamo finire Giovanni sul discorso. Sì, finisci pure e poi dopo chiudiamo. Allora, le prossime settimane è ovviamente un'incognita. Nel senso, purtroppo, dico io, molto dipende da fattori extracalcistici, tra cui il ballottaggio. Quindi se il Presidente Bandecchi diventerà o non diventerà sindaco, secondo me avrà un'influenza non tanto sul fatto che lui resti o meno proprietario della Ternana. Questa, secondo me, è una decisione che io non conosco, ma che il Presidente Bandecchi ha già preso, indipendentemente dall'esito elettorale. Ma dipende molto anche da come strutture... Secondo te, scusa, ti aiuto, secondo te il direttore sportivo cambierà? Ma io, allora, facciamo... Mi modero, va bene? Comunque. Automodero. Quindi, se noi dobbiamo fare la tara su quello che dice il Presidente Bandecchi e poi realizza lo stesso Presidente Bandecchi, non lo sappiamo. Se dobbiamo alla lettera ascoltare, dare fiducia e fede a quello che lui dice, la risposta è sì, perché lui ha parlato di una rivoluzione totale in società. Quindi una rivoluzione totale non può essere esclusivamente l'allenatore. E poi ci stanno i rumors. E i rumors di brevissimo termine dicono che il direttore sportivo probabilmente cambierà, che l'allenatore quasi certamente cambierà. più probabilità di direttore sportivo. Più probabilità, diciamo, al 95%. E la conclusione è che una volta scelto il direttore sportivo allenatore, a quel punto ci sarà una scelta su chi rimarrà e chi non rimarrà. Esatto. Tutto sta a capire il livello qualitativo del nuovo direttore sportivo. Noi dobbiamo anche interrogarci sull'ultima cosa, sulla capacità, solo su questo, neutro. Su quanto invece vorrà il Presidente Bandecchi, ma in questo caso l'azionista, Unicusano, investire sulla lettera. Certo, questo è decisivo. Quindi questa è, diciamo, l'incognita delle incognite, perché noi sappiamo tutto quello che è successo prima, sappiamo che Unicusano in qualche maniera ha, col suo CDA, detto delle cose, sulla sua partecipazione in la Ternana. Hai detto bene prima. E quindi... Decisivo... Noi dovremmo capire... Il budget è decisivo. Se l'azionista di maggioranza... Dovremmo anche capire, perché noi abbiamo detto che il direttore sportivo compra, ma il direttore sportivo nuovo che sarà... Si deve regolare col budget. Ci avrà anche una serie di prestiti, se non sbaglio. Sì, c'è anche degli ingaggi in pesanza. Bisognerà lavorarci. È un lavoro difficile. È un lavoro difficile, lungo e soprattutto che richiede competenze. Come al solito è una questione di soldi. Eh, soldi e competenze. Allora, ragazzi, finisce qua. Io vi do la buona serata. Tanto ci rivedremo. Gianni Giardini, insieme a Gigi Manini e a Giovanni Esposito, vi dà la buona serata. Il campionato è finito. La Ternana, prossimo anno, farà di nuovo la Serie B. Questo è il dato più importante. Salutiamo Enrico. Attualmente ci arrivavo. E salutiamo anche Enrico, che tornerà sicuramente alla conduzione del calcio vuoi. Perché, stavo per dirlo, credo che magari una puntata, Alessio, o due puntate. No, anche più. Prima ci aggiorneremo nel corso, diciamo, delle settimane, anche in base alle nuvità che ci saranno. Abbiamo adesso a Giovanni che svilupperemo anche alcuni discorsi. Sì, svilupperemo altri discorsi. Insomma, avrete modo di vederci durante tutta l'estate. E poi, naturalmente, a luglio si ricomincerà. Insomma, saremo presenti. Sempre. Saremo presenti. Va bene. Più o meno dipenderà da una serie di circostanze. Buonasera. Ci vediamo. Ciao Enrico, stammi bene. Ciao Enrico, stammi bene.